Il presidente della provincia, Domenico Gambacurta, scrive a Stefano Caldoro e a Nichi Vendola, rispettivamente presidenti di Campania e Puglia, e ai colleghi di Foggia e Benevento, Francesco Miglio e Claudio Ricci, per costituire un fronte comune tra istituzioni locali e regionali per il progetto definitivo della tratta Apice-Orsara lungo l'alta capacità Napoli-Bari. Dopo la conferma della stazione Irpinia nel decreto Sblocca Italia, l'obiettivo è adesso quello di incalzare il governo, imprimendo un'accelerata ad un'opera considerata strategica per lo sviluppo dell'economia. Il prossimo passo, secondo quanto dichiarato da Gambacurta, sarà quello di inoltrare la stessa missiva al governo, nella persona del ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, e contestualmente al Cipe, che nel 2011 ha già deliberato lo stanziamento di 51 milioni di euro. Già il decreto Sblocca Italia ha previsto tempi più ridotti per l'inizio dei lavori. Il primo dei lotti sulle quattro grandi tratte dovrà infatti partire entro il 31 ottobre 2015, anziché entro il primo gennaio 2018. I lavori dovrebbero poi terminare entro il 2022, per un costo totale di 6,2 miliardi di euro ed un impegno medio di 4.000 operai al mese. Il presidente della provincia Gambacurta sta dimostrando a fatti ciò che aveva preannunciato a parole. Dopo il primo incontro del tavolo del patto per lo sviluppo, il prossimo appuntamento potrebbe, secondo indiscrezioni, esserci a breve ed avere come tema principale proprio la stazione Irpinia e i relativi cantieri.